Ed eccoci qua, questa è l'occasione giusta per presentarvi un libro, è l'occasione giusta perché siamo vicini al Natale e noi abbiamo il piacere di ritrovare qui nei nostri studi un caro amico di Padre Pio TV, un mio caro amico, nonché concittadino, Don Luigi Carbone. Ben trovato! Ben trovato, carissima Maria, ben trovata. Si è fatto un po' desiderare, chi segue la nostra emittente insomma sa che in un determinato momento si è stato con noi per diverse puntate perché tu da liturgista ci hai guidato in diversi periodi dell'anno liturgici ovviamente. Onoratissimo, grazie Anna Maria, anche per me è stato ed è sempre un piacere ritrovarvi e ritrovarti. Grazie. Grazie di questo invito ancora una volta. Grazie, per noi è un piacere e abbiamo insomma il motivo giusto perché oltre ad essere liturgista, Don Luigi adesso è anche scrittore e ho qui tra le mani questo suo frutto, questo figlio se vogliamo, un libro, il primo tuo libro, il mistero del Natale e qui si apre tutto un mondo. Siamo insomma nel periodo giusto, c'è l'occasione di fare tanti regali a volte inutili, quindi noi spingiamo per fare solo libri come dono perché comunque sia insomma poi i frutti si raccolgono, formano, fanno crescere e questo in modo particolare è molto interessante perché deriva da uno studio che tu hai fatto. Però insomma lascio parlare a te perché è uno studio così che abbiamo fatto a Roma quando ho compiuto i miei studi liturgici nel bienio di licenza in sacraliturgia, uno studio che è nato da un seminario, da un'esercitazione accademica. Sul Natale e in particolar modo sul Natale a partire da testi liturgici antichi, cioè da testi liturgici che sono i prefazzi, gli antichi prefazzi del Natale, della liturgia occidentale, quindi della liturgia romana e della liturgia occidentale non romana, che comprende la liturgia ambrosiana, ispano-mozarabica, gallicana e liturgia beneventana abbastanza sconosciuta. Il prefazio sappiamo tutti è quel testo dal latino prefari, quindi il dire prima significa prefazio, che precede l'azione liturgica della consacrazione. Tanto per intenderci è quel testo poetico preceduto da quel dialogo tripartito, il Signore sia con voi, è cosa buona e giusta, eccetera. Ci sono degli schemi fissi, il primo, l'ultimo, c'è uno schema centrale che varia sempre e che identifica in maniera particolare la celebrazione che si sta svolgendo. Quindi da quel testo noi capiamo cosa stiamo celebrando, in questo caso il mistero del Natale. Per il mistero, ad esempio, delle feste della Beata Vergine Maria, ecco, il prefazio parla dei misteri, dei dogmi mariani. Il mio libro parla di questi prefazzi antichi, cioè questi testi che a un certo punto la liturgia della Chiesa romana e non romana ha tralasciato per vari motivi, non c'è un'accusa, non c'è una colpa, ma che comunque si sono persi nel tempo. E che io in questo studio ho recuperato, ho studiato questi testi liturgici, che tra l'altro sono anche poetici e sono densi di spiritualità e di teologia, e così sono dei testi che ci aiutano a riflettere, a meditare un po' sul senso di questa celebrazione, che oggi rischia di scivolare nello sfavillio, nello scintilio di luci, di regali. Perdendo nel senso. Perdendo nel senso, il senso proprio di questa festa. E infatti, proprio all'interno di questo libro, poi ci sono le risposte al senso del Natale, perché quale significato assume oggi, qual è il senso appunto della celebrazione, attraverso l'esame di 23 testi liturgici. C'è il testo in latino, tradotto in italiano, quindi è adatto a tutti. Infatti, prima mi chiedevo, ma forse un po' per gli addetti, assolutamente no, piacevolissimo da leggere. Poi, la bellezza è che si può decidere di riprenderlo anche dal secondo, dal terzo capitolo, e non necessariamente dall'inizio. O paragrafo, ciascuno può leggerlo con spirito diverso. Chi vuole fare una lettura approfondita, può leggere in maniera approfondita, leggere le citazioni, le note. E ritornarci. Chi vuole leggerlo solo per nutrire la propria spiritualità, lo può leggere in maniera veramente semplice, agevole, perché comunque i testi analizzati sono dei testi poetici. E quando c'è poesia per esprimere cose alte, è come se tornassimo a quella adagio di cui ci parla anche un autore latino, antico, seneca, mettiamo la medicina, amara e orniamo il bordo del bicchiere con il miele. Quindi le cose difficili, dure, passano attraverso le cose semplici e gradevoli. Quindi la poesia è poesia liturgica, è un espediente, caro ai padri della Chiesa, che è utile, utile ad edificarci spiritualmente. E qui, insomma, si vede anche la tua passione, non solo per la tua vocazione, ovviamente, ma anche per questo ramo che è la liturgia. Quindi, insomma, noi anche per questo ti abbiamo incontrato spesso. Leggo l'editore Andrea Pacilli e la prefazione del nostro pastore, l'arcivescovo padre Franco Moscone. Come l'ha presa, visto che da poco è arrivato, ritrovarsi comunque un testo del genere tra le mani, significa che anche le sue pecore, tra cui ti ci metti anche tu, hanno delle competenze non rilevanti. Il vescovo è stato molto entusiasta, anche perché Monsignor Moscone, il nostro arcivescovo, ha studiato al Sant'Anselmo, non liturgia, ma il primo ciclo è baccaloreato alla teologia, quindi ha ricordato un po' i bei tempi degli studi romani ed è stato molto entusiasta perché comunque è un contributo che approfondisce, ma allo stesso tempo semplice. Può sembrare per specialisti, in realtà no. E come dice il vescovo nella prefazione, anche la liturgia, riprendendo un'espressione di Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, anche la liturgia è la punta di diamante per l'evangelizzazione, lo dice il Papa stesso. Ciò che si crede, l'ex credendi, è espresso in ciò che si prega, l'ex orandi, e ti passo il libro, perché so che mi vuoi leggere un passo, ci vuoi leggere un passo? Un passo molto significativo, come dicevo prima, anche per rendere un po' l'idea. Certo, per rendere l'idea, come dicevo prima, la poesia che esprime e integra la teologia, i contenuti alti, l'ex credendi, l'ex orandi, dice noi crediamo ciò che preghiamo. La preghiera è fonte della nostra fede e ci rivela ciò in cui noi crediamo. In questo prefazio, che in italiano ovviamente lo leggo, in questo prefazio è tratto dalla liturgia gallicana, cioè quella liturgia, come dice la parola stessa, che si celebrava nelle Gallie, nella Gallia, fino al VII-VIII secolo, prima della riforma carolingia. molto, come dire, poetica, espressiva e a volte anche ridondante rispetto alla semplicità nobile della liturgia romana. C'è un'espressione molto bella in questo prefazio che fa così, parla di Gesù Cristo, Gesù bambino, che nasce e dice così «Giaceva in fasce, splendeva tra le stelle e carne ciò in cui era avvolta la divinità alla quale gli angeli rendono servizio. Era collocato in una mangiatoia, ma la sua potenza operava nei cieli. Giaceva nella culla e donava un regno celeste. È nato per noi il Cristo e il mondo venne illuminato». Questo prefazio fa leva sulle due dimensioni dell'incarnazione. Cioè la dimensione celeste e quella terrena. Cioè in quel bimbo si vede una creatura umana, terrena, è avvolto in fasce, quindi è trattato come un bimbo normalissimo dei suoi tempi, e allo stesso tempo si scorge una seconda dimensione, che è la dimensione divina. Quindi le fasce della mangiatoia, però, è divino e opera con la sua potenza nei cieli. Quindi c'è questa antitesi, questi parallelismi stilistici, retorici, che ci indicano appunto questa doppia dimensione dell'incarnazione. Gesù è uomo ed è anche Dio, la doppia natura. E viene, ecco, incanalata anche poeticamente e stilisticamente nel testo in questione. E l'ultima parte, adesso salto, fa un accenno alla Vergine Maria, che è la grande protagonista del tempo di avvento di questo periodo prenatalizio, ed usa delle espressioni molto belle, che sono proprio degne, degne della sua persona. E dice così, Non sposata ha partorito, quindi Maria vergine e madre. Vergine ha concepito, conservatasi pura da un uomo, ma gloriosa dal figlio. Prese il nome di madre, ma non ebbe il letto nuziale di moglie. Quindi Maria non ha avuto, ecco, un uomo, uno sposo, pur tuttavia è madre ed è vergine. E ancora così, ecco, continua questo prefazio, ma come questo tanti altri, che ci dicono proprio questa dimensione teologica e allo stesso tempo poetica di questo mistero grande che è il Natale. Io ho il tempo a disposizione limitato, anche io, come è la mia mente. Purtroppo i tempi televisivi sono questi, però vogliamo dare anche degli appuntamenti, perché oggi lo presentiamo qui a Padre Pio TV, ma ovviamente tu da autore hai la possibilità di incontrare gli appassionati. Gli appassionati e comunque gli interessati e ovviamente i fedeli delle nostre parrocchie. venerdì 20 dicembre alle ore 19 presso l'Auditorium Valentino Vailati a Manfredonia, in via Arcivescovado. Tanto per intenderci di fronte alla cattedrale, farò la presentazione di questo libro con l'intervento di Sua Eccellenza, Padre Franco Moscone, Arcivescovo, e un carissimo esperto in cultura e comunicazione, dottor Vito Saracino, dell'Università di Foggia e Roma 3. Giovanissimo, ti ha anche ispirato, mi dicevi a telecamera è spenta, quindi a scrivere questo libro. Sì, mi ha incoraggiato. Incoraggiato, ecco, più che ispirato. A scrivere, a dare alle stampe questo lavoro molto interessante. E poi il giorno dopo, il 21 dicembre, a Ischitella, alle ore 19, presso la parrocchia San Francesco d'Assisi. E queste le prime due tappe di questo tour, di presentazione del libro Il Mistero del Natale, edito da Andrea Pacilli, prefazione di Padre Franco Moscone, autore del suo primo libro, ma non è detto che sia l'ultimo, perché noi vogliamo, ecco, ormai quando uno poi comincia a scrivere mi hanno detto che non finisce più. No, in effetti sto già pensando ad un'altra opera. Non anticipiamo nulla. Non anticipiamo nulla. Noi comunque ti rivolgiamo qui, magari per la prossima settimana. Io ci provo a fare l'invito, poi vedremo, sarà una sorpresa. Sarà una sorpresa, mistero anche in questo caso. Invitiamo comunque, approfittiamo dell'occasione, per metterlo sotto l'albero di Natale, perché non c'è regalo migliore di un libro. Se poi è dedicato al Natale stesso, è ancora meglio. Grazie Don Luigi. Grazie Anna Maria. Grazie mille. Grazie a tutti.